Incidente veramente hot per Alessia Marcuzzi. Lo spacco si apre vertiginosamente proprio mentre scende le scale. Si vede tutto. Alessia Marcuzzi è anche lei di ritorno dal festival di Sanremo. Braccio destro di Fiorello nel dopo festival, è stata una piacevole presenza femminile all'interno della trasmissione in onda subito dopo la diretta del festival di Sanremo. Una delle donne più amate della tv italiana, conduttrice, modella e anche attrice della tv italiana, sono numerosi i programmi che ha condotto e in cui ha avuto anche un notevole successo. Tante le edizioni del festival bar che ha collezionato nella sua carriera, per poi dedicarsi alle Iene, scherzi a parte, il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi. Dopo un enorme successo però, tra lei e Mediaset c'è stato l'addio, almeno per il momento. La Marcuzzi ha quindi trovato la sua nuova casa in quel degli studi Rai. Proprio nelle reti nazionali ha trovato il suo nuovo posto. Un programma che sembra essere cucito su misura per il suo spirito e poi Fiorello che la chiama al dopo festival. Insomma, una serie di importanti successi. Ma Alessia non è solo amata per la sua bravura alla conduzione. Sono in moltissime a seguirla per il suo stile e per le tip fashion che offre a tutti coloro che la amano. Lei che ha fatto delle minigonne un vero e proprio must. Ma oggi a tradirla un vestito lungo. Quasi 6 milioni di follower su Instagram. Alessia Marcuzzi, è probabilmente una delle donne dello spettacolo più seguite ed apprezzate in maniera assoluta. Spesso sui social si mostra con i suoi figli. Con foto in vacanza o a casa. Anche se molto Xalessia non lascia i fan fuori dalla sua quotidianità. Proprio in una foto social. Mostra l'incidente sexy che l'ha vista come protagonista. Il vestito è lungo. Ma lo spacco è troppo profondo. Ecco l'immagine che oggi tutti gli italiani guardano. La conduttrice. Bellissima come sempre. Un elegantissimo e bellissimo abito rosso fuoco che le dona moltissimo. Sembra quasi Jessica rabbita avvolta in quella stoffa rossa. Ma lei, anche con un vestito lungo, non rinuncia mostrare le sue chilometriche gambe. Uno spacco un po' malandrino si apre proprio mentre lei scende le scale e regala un vedo non vedo che ha fatto impazzire tutti. Sempre accattivante Alessia. Grazie a tutti.